finalmente la neve sta gelando e oggi sono riuscito a venire in montagna in questo magnifico ruscello a circa 1900 metri di quota pescherò a spinning una esche di gomma oggi vediamo un po' le esche che uso oggi sono imitazioni di camola imitazioni di bruchi tutte piccole gomme anche perché i pesci non sono enormi il black che bel pesce piccolotto nero che pesce il colore sembra quasi una tinca sopra questo verdastro vai piccolotto che bel pesce stesso colore dell'esca che bel pesce in miniatura bel pesce o il bello o uno bellino ti lascio qua che bello sto chiaro bellissimo dopo tre sbagliati si è riuscito a prenderlo magnifico peggio che bello uno ma più bellino che spettacolo di pesci vai piccolino adesso provo a andare nella parte alta della corrente lì un altro bello magari c'è oh lo vedo nella riva eccolo il biancotto bellissimo bellissimo salmarino di fonte sono piccolotti ma sono veramente divertenti da pescare belli una bella correntina come se riesco a non farmi vedere proprio così oh il bello oh il bello oh che salmarino cos'è che pesce ha che pesce ha che pesce ha da dove è saluto fuori sto pesce che pesce che pesce pesce più bello della giornata per ora che colori nero e arancione bellissimo fatti vedere ancora secondo sei veramente bello qua e ti lascio andare veramente un bel pesce questo bello che pesce pesce non mi ne ho neanche accorto di avercelo in canna non mi ne ho neanche accorto di avercelo in canna eccolo il bello che bel pesce di nuovo un altro bel pesce fatti vedere un secondo con la gobba stupendo lì sotto dove c'hanno le tane vai piccolo qua sotto si infilano un altro bel pesce non 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 oh da lì sotto che bello scuro di nuovo che bello sto qua scuro bellissimo vai piccolo ho visto dove i salmarinetti eccolo subito il nero ti ho visto e sei subito andato a mangiarti bellissimo dai ti lascio stare cambio posto un po' più bello colorato come mi piace una mano uno un po' più bellino arancione vai vai un po' più bello